E' tutto nuovo per Valentino Rossi. Non tanto la vita lontano dalla pista, ma l'arrivo della figlia Giulietta che ha stravolto la sua quotidianità e quella della compagna, Francesca Sofia Novello. La bambina, nata lo scorso 4 marzo, sta per compiere tre mesi e ogni giorno è una scoperta per i genitori. L'ex pilota di moto GP sta dedicando tutto il tempo alla famiglia e ai microfoni di Sky Sport ha fatto sapere, ci stiamo divertendo. Fare il genitore è proprio una figata. Nuovi ritmi e anche qualche rinuncia, ma è la cosa più bella che potesse capitargli, fare il padre è un bell'impegno, ma le nonne sono impazzite per la nipotina, abbiamo dato loro una seconda giovinezza. L'aiuto dei rispettivi genitori è fondamentale per la coppia, come per tutte le coppie, ma Valentino Rossi con la figlia può dirsi fortunato, io e Francesca abbiamo un carattere tranquillo, tutto questo si riflette su Giulietta, la notte dorme quasi con me, quello fa la differenza. Perché si chiama Giulietta? Secondo alcuni ben informati, i genitori avrebbero scelto il nome Giulietta in onore della Santa del 16 febbraio, il giorno del compleanno di Valentino Rossi. Chissà se a febbraio del prossimo anno, magari a San Valentino, la coppia farà anche il grande passo. Di matrimonio si vocifera da un po', ma i diretti interessati non hanno mai commentato e rumori.